Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video haul di Shane Saluta Elena, dili ciao Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube Questo è un haul di Shane Non mi perdo in chiacchiere, vi ricordo che se avete bisogno di qualche cosa in generale Basta che me lo scrivete giù nei commenti, vi lascio il link direttamente quando commentate Per qualsiasi cosa che vi serve Ho fatto un ordine su Shane, ho preso delle cose, alcune che mi servivano sempre con ovviamente tutti i miei soldini Ci ho messo più o meno tre settimane ad arrivare al pacco Mentre un altro pacco è arrivato in circa Un altro pacco è arrivato in circa una settimana, poco 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 più Spero che il video vi piacerà, vi faccia piacere Non lo so, ho preso un sacco di cosine carine E direi che possiamo iniziare subito Allora, come prima cosa ho preso queste Che sono le ampolline Per i video ASMR Allora, una è così Bellissima, blu E non vedo l'ora che vediate anche i video con le ampolline Cosa c'è Lila? Dimmi Lila Ok Mentre l'altra è rosa E mi piace tantissimo questo mix con l'ampollina blu-rosa Le vedrete in un prossimo video, sono super emozionata e non vi do l'ora di utilizzarle E sono anche felice di aver fatto questo acquisto Perché sono veramente di una buonissima qualità Poi, non so se lo sapete Ma adesso va tipo Tante persone dormono con il cuscino di seta Con un cuscino che ha una stoffa un po' particolare Io volevo provare Però Non è ovviamente di seta questo Quello di seta costa più o meno Adesso non so con precisione Ma quello di seta Costa più o meno 100 euro Se non di più Queste io le ho pagate tipo 8 euro Non mi ricordo Però è così Vedete È un tessuto Tipo questo rosa Chiaro Il problema è che io non ho Un cuscino grande così Cioè Io ho un cuscino Semmai che è grande così Che per voi sarebbe un cuscino Ovviamente normalissimo E quindi Bisogna un attimo capire cosa fare Però Non importa Ce ne sono Ce ne erano due nel pacco Di questo bellissimo rosa Vi faccio sapere Il tessuto non è male Vediamo se funziona Questa cosa che vi dicevano Aspetta Marco Ce ne è Ti si è sentito nel video Ok E anche questa Ce ne erano due Nella confezione Vedremo Vi faccio sapere Insomma Sono cose che provi Poi sapete che io sono attirata Da tutte queste cosine Non mi tiro indietro Quindi Per me Tutte queste cosine Così Sono molto belle Posso vedere rapidissimamente Anche le cose della Lilla Perché devo subito ridagliele Questo è un giochino Che ho preso per la Lilla Sempre di Shane Che fa questo suono Eccolo qua Molto carino Mi ha piaciuto tanto Che mi ama Avete sentito È la Lilla che l'ha preso E l'altro è questo Però sembrava molto più grande La foto Ma non importa Sempre molto carino Sempre per la Lilla Che fa suono Tieni Altra cosa Tipo gelatino squishy Per un video ASMR Non vedo l'ora di farvelo vedere Mentre questa è un'orlesellina Che ho regalato per mia mamma Bellissima Però che cambia anche in base alla luce Molto 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 Bella, raffinata Ed elegante Sembra quella Della Bella e la Bestia Poi ho preso Questa coperta Super morbida Lilla Gigante E enorme Di Shane Morbidissima Super super valida E Ho preso questi cartoncini Che sono tipo Grattevinci con l'arcobaleno sotto Per dei video ASMR Con il loro stecchino Non vedo l'ora di utilizzarli Sono pazzeschi questi In più questo Siete la Lilla con il stecchino In più questo È l'affare Che serve per pulire i pennelli Velocemente Con la spugna All'interno Solo che non c'è voglia Di prenderlo da Fenty Beauty Che costa un sacco di soldi Quello lì L'avrò pagato tipo Due, tre euro Veramente Veramente Poco 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 Altra cosa Sempre per voi Ho preso anche questa Che è una lampada segreta Che però non posso mostrarvi adesso Che servirà per dei video ASMR Grazie Lilla Ok Lo zainetto porta Lilla Porta cagnolino Vedremo Non riesco a provarlo adesso Per calcolare Lilla Mi fa sapere Come va Un mascara Di Shane E questo qui Si chiama Black Non so Vediamo come mi trovo Eccolo lì Sembra mascara Poi ho preso Queste mollettine E due sono di là Che le ho utilizzate Per un video Get Ready Che vi consiglio Andare a vedere Quello è super professional Lilla Stai disturbando il video Una palette Che voglio assolutamente Provare con voi Stra 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 bella Questo è il pack Non mi piace Ma vabbè Guardate che Cioè È pazzesca Questa palette Wow Non vedo l'ora di provarla E infine Questi guanti Trigger ASMR Sono pazzeschi Sono bellissimi Poi di questo colore Wow Lilla Lilla Non dico altro E vi aspetto Nei video ASMR Vi faccio vedere Un'altra cosina Veloce E poi con queste cose Abbiamo finito E vi faccio Un altro video Con i vestiti Quindi vedete L'altro video di Shane Non perdetelo Altro Allora Eyeliner di Shiglam È quello che indosso adesso Quindi se vi piace L'effetto è Questo qua L'ho provato prima Non male Non male La punta È Scusatemi La punta è in feltro Volevo provarlo subito Non male Ma ovviamente Devo testarlo E il blush Questo qui Tra l'altro Non mi raccorta Ma ha anche Il pennellino Per sfumarlo Nelle guance Ed è sempre il blush Che indosso adesso E come colorazione È questa qua E la colorazione È La Midnight Hour Se qualcuno È interessato Bene Questa era la prima parte Con tutte le cosine Spero vi sia piaciuta Vi faccio anche la seconda Con i vestiti E noi ci vediamo domani Alle ore 2 di pomeriggio Alle 14 Con un nuovissimo video Grazie per essere stati con me Ciao